Ma oggi sei qui in qualità di autore di cuore e acciaio, libro, che parla di due passioni della tua vita, una è quella per il cinema e una è quella per le arti marziali, dico bene? Le arti marziali al cinema, infatti, dici benissimo. In realtà ci sarebbe una terza passione che è quella per la storia, la storia con la S maiuscola. Ho cercato di coniugare queste tre cose, cercando di fare non un manuale, un dizionario di film sulle arti marziali, anche perché tu sei un cinefilo come me, la maggior parte dei film sulle arti marziali non sono esattamente bellissimi, soprattutto quelli americani. E allora ho cercato di invece creare un percorso attraverso il cinema giapponese dei samurai, il cosiddetto Chambara, e la produzione di Hong Kong, quindi diciamo da Bruce Lee fino alla generazione 97, che sono i registi che in qualche modo si chiamarono così in onore del passaggio di Hong Kong dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito alla Cina. Di quali arti parliamo? Qualcosa hai già citato, però parliamo di karate, di kung fu, di… Allora, beh, io le arti marziali che frequento di più sono l'Aikido, che pratico, e il Kendo che ho praticato e che è un punto di partenza. Però, come dicevo prima, dal punto di vista cinematografico, diciamo che la scintilla, a parte i film di samurai, la scintilla è stata il judo, perché il primo film di Kurosawa Akira, che si intitola Sugata Sanshiro, è un film che racconta, sotto mentite spoglie, la storia di un allievo di Jigoro Kano, che è stato il fondatore del judo. Dico sotto mentite spoglie perché i nomi sono cambiati, ma sono molto riconoscibili. Siamo anche vivendo un periodo delicato e drammatico su Hong Kong. Potrebbe anche esserci, perché il cinema ci insegna che così succede, una ripresa di determinati generi, addirittura di sottogeneri, ispirati a questa tragedia personale di tanti hongkonghesi. Adesso è presto per dirlo, posso però dire una cosa dal punto di vista politico, che ho rimarcato anche scrivendo questo libro, infatti ne accenno. C'è una rivendicazione linguistica in questo momento molto forte, cioè a Hong Kong non si parla il mandarino, ma si parla il cantonese. E guarda caso queste produzioni, sono delle produzioni quasi tutte in cantonese, qualche volta con i sottotitoli in mandarino, perché poi vanno nelle Chinatown in giro per il mondo, dove è la lingua più parlata. Però questa rivendicazione della lingua, cioè il voler dire nonostante Pechino noi parliamo la nostra lingua, ha ovviamente un significato politico evidente.